Sea kayaking lungo la riviera del Conero Day 4, quarto giorno 5 agosto 2024 E ora si ritorna alla base Il ritorno prima parte con mucillaggini Con molto relax oggi Riprese con GoPro Hero 11 in 4K a 60fps Hyperview E sono sempre sul mio Evolution 2.0 In Carbon Kevlar Vacuum System Infusion Della Nautica Mannino E qui c'è una bella stresciona di mucillaggini con schiumetta Altrettanto c'era in alcuni tratti davanti alla baia di Porto Novo E altrettanto davanti alla vela Prima, dopo, un po' dovunque Questa è la situazione quest'anno a inizio agosto Ed è, come dire, siamo messi meglio rispetto a fine giugno, primi luglio Primi di luglio Bella strisciona di mucillaggini Con la mia nuova pagaia Greenland La Kallec della Gear Lab Outdoors Versione Rebel Da 230 cm 730 grammi di peso In Carbonio ovviamente Che ha ormeggiato all'interno delle boie Quest'anno gira la guardia costiera con la moto d'acqua Speriamo che Vada a dirgli qualcosa Se no Intanto qua Continua Le mucillaggini Guarda lì che roba Oh là là Guarda che roba Qui è messa veramente male Molto molto male E se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi al canale In modo da essere informati Su tutti i nuovi video che verranno caricati E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco In modo da ricevere le notifiche E già che ci siete Contividete sui social i video che preferite Se volete Potete seguirmi su Strava In modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio Volendo potete seguirmi anche su Instagram Dove trovate foto e reel Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video Trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo Guarda che schifo Fuori dalle boe Sei tu Sei troppo vicino a riva Devi stare fuori dalle boe Fuori dalle boe Eh lo sai Sei a dieci metri dalla riva Vedi un po' Poi uno si deve incazzare Ancora mucillaggini a Coco Ancora mucillaggini a Coco Noi si deve incazzare Ancora mucillaggini a Coco Duolore Ancora mucillaggini a Coco è il momento delle onde anomale questo ma non ci cambia niente bravo questo pensato è venuto a remi intanto un'altra bella strisciata di micillagini perché è giusto far vedere che si è bellissimo ma quest'anno le micillagini rendono una merda questo posto fantastico qui non è conciato come il pezzo che abbiamo appena visto ma non sta messo bene acqua torbida micillagini e là mi pare di vedere altre belle strisciate di micillagini dense che è chiaro al mattino presto non si sono ancora addensate ma più avanti la giornata più si concentrano soprattutto vicino arriva e soprattutto nelle bagliette più belle del conero guarda guarda qua qui ora un tratto bello pulito Meno male. Anche lì altre concentrazioni di nicillagini e spiunetta. Questo già è un punto dove si creano gli incroci di onde. Oggi è tranquillo, però arrivano le onde, le barche. Oggi è un fiorellino, ieri sì che si ballava alla grande qua. Addirittura un'onda mi ha spostato la pagaia, la prison wing che tengo lì davanti, per fortuna legata. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati. Guarda altri video, ce ne sono di vari generi, i video di questo giro continuano. Ciao, alla prossima!